Una vaccinazione che oltre a diminuire il rischio di diffusione del virus H1N1 vuole essere anche di buon esempio. Siamo a Treviso, alla Madonnina, al Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell'Ulss9, un luogo conosciuto in città, soprattutto dai genitori che portano i loro bambini a vaccinarsi. Questa volta però i pazienti sono gli stessi medici, e non medici qualsiasi, ma i primari di alcuni reparti a rischio del caffoncello e dei servizi territoriali. A presentarsi all'appello i dirigenti di pronto soccorso, malattie infettive di due distretti sanitari della pneumologia del Dipartimento di Prevenzione e infine contro la pandemica a vaccinarsi c'era anche il direttore sanitario dell'Ulss9. Anche con la nostra testimonianza, anche con il nostro esempio, diciamo alla popolazione che il vicino è sicuro che è importante vaccinarsi proprio per evitare le conseguenze di questa infezione. Il picco presumibilmente verrà fra qualche settimana. Ora si comincia ad avere un'iniziale diffusione della malattia, però non è ancora arrivata all'ACME. I dati iniziali prevedevano un'ACME tra il 15 di dicembre e la metà di gennaio. Probabilmente, forse, c'è un lieve anticipo. Ad essere già stati vaccinati, anche il 50% dei medici di base intanto continuano le vaccinazioni per la cittadinanza che presenta patologie a rischio. Sabato 14 e sabato 21 novembre sono previste altre due tornate per gli adulti tra i 18 e i 65 anni. Disponibili per ora 18.000 dosi, ma se ne attendono altre 7.000 entro la prossima settimana. Come è andato il primo sabato di vaccinazione contro l'influenza H1N1? Non c'è stata un'affluenza molto grande, anche probabilmente perché l'informazione deve ancora passare. Comunque sabato 14 e sabato 21 continueremo nel percorso di vaccinazione della popolazione a rischio. Contiamo che l'informazione e le notizie continuino a passare, che quindi aumenti la percentuale di popolazione che verrà vaccinata. La differenza degli altri vaccini, quelli per l'influenza stagionale, è un vaccino allestito ad hoc per un virus che certamente sta già circolando nelle nostre latitudini.